Allora avendo provato sempre educativi dei passaggi di katana e di runciaku sempre all'interno dello Shingeneshop Kittoryu abbiamo il bastone classico usato sia come bojitsu e sia come metodo siciliano però inserito sempre inserito nel metodo Shingeneshop Kittoryu sempre dando piccoli flash spazi sempre educativo ma l'istruttore farà vedere dei passaggi di bastone inserito nel bojitsu e nel bastone siciliano grazie Buon appetito! 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 Avete visto dei passaggi educativi di bastone! Buon appetito! Buon appetito!